la pagina di oggi è tratta da un romanzo di una bellezza folgorante il quer pasticciaccio brutto di via merulana uno dei più grandi romanzi in assoluto della storia letteratura italiana certamente tra i primissimi del novecento di carlo emilio galla scritto pubblicato nel 46 e poi pubblicato di nuovo nel 57 nella in questa pasticciaccio brutto di via merulana gada racconta questo questo fatto questo avvenimento della primavera del 1927 a roma a via merulana liliana balducci una signora di buona famiglia benestante c'è viene trovata morta e qui cominciano le investigazioni del commissario ciccio ingravallo che era un personaggio formidabile che cerca vuole sapere vuole conoscere la verità il tutto avviene nel 1927 tutto avviene in una roma ormai completamente fascistizzata in tutto avviene in quel momento storico in cui il fascismo mostra dal suo aspetto più di sicurezza di 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 voglia di di rappresentarsi e gada lo sappiamo non era certamente uomo di sinistra ma era un ferocissimo anti mussoliniano un violentissimo anti mussoliniano che proprio identificava in mussolini l'essenza della volgarità della banalità della bruttezza come come sappiamo e perciò di questo racconto questo romanzo di un pasticciaccio lo anticipiamo un pasticciaccio che destinato a rimanere pasticciaccio come sarà l'altro grande romanzo di garda in cui pure lì avviene un omicidio e che omicidio ricognizione del dolore e che omicidio muore la madre del protagonista l'ha uccisa lui don gonzalo piro butirro non lo sappiamo forte sospetto ma non lo sappiamo qua chi ha ucciso liliana balducci non lo sappiamo non lo sapremo ma rimane un pasticciaccio e perché rimane un pasticciaccio è intuitivo perché noi abbiamo sì strumenti di conoscenza dice ganda ma questi strumenti di conoscenza poi alla fin fine sono limitati non ci aiutano arrivare la vita rimane profondamente un mistero un pasticciaccio allora ho scelto di di questa di questo romanzo estremamente complesso di sicuro l'abbiamo letto tutti rileggiamocelo perché è veramente una fonte di idee di intuizioni ma soprattutto una straordinaria scrittura due pagine di scrittura molto diversa anche se sono tutte e due scritture di alla alla gadda ecco quasi subito all'inizio ferma il racconto ha raccontato della linea da balducci ha raccontato di don ciccio in gravallo commissario ha raccontato i primi tentativi di investigazione e ci racconta in che periodo storico stiamo ed ecco la descrizione del 1927 prima del 27 con il protagonista assoluto che è mussolini il testa di morto il testa di morto e poi sentite come ne parla erano i primi boat i primi sussulti a palazzo dopo un anno mezzo di novizio del testa di morto in stifelio so in taita erano già all'occhiadaccia il vomito degli gnocchi l'epoca della bombetta delle gotte delle ghette color tortora stava sepodip e conclude con quelle breccette corte corte d'erospo e quelli dieci detoni che gli scascavano sui fianchi come duramazzi de banane come un negro con i guanti irradiosi destini non avevano avuto campo a manifestarsi come di poi accadde in tutto il loro splendore la margherita di ninfeggeria scaduta di donna abbandonata varava ancora il novecento il novecento l'incubo dei milanesi di allora vacava le mostre ai lanci agli oli all'acquerello agli schizzi quanto può avvacarsi una gentile margherita lui si era provato in capo la feluca cinque feluche gli andavano a pennello gli occhi spiritati dell'eredo luetico oltre che luetico improprio le mandibole da sterratore analfabeta del rachitoide acromegalico riempivano di già l'italia illustrata già principiavano invaghirsene appena untata di cresima tutte le marise barbise d'italia già principiavano invulvarselo appena discese d'altare tutte le magde le milene le filomene d'italia in velbianco redimite di zagara fotografate dal fotografo all'uscire del nartece sognando fasti e roteanti prodezze del manganello educatore le dame a maiano o a cernobbio già si strangullavano nei suoi singhiozzi venere all'indirizzo del potenziatore d'italia giornalisti tacatacuani lo andavano a intervistare a palazzo guigi le sue rare opinioni ghiotti le annotavano in un'agendina presto presto da non lasciarne dietro un sol bicolo le opinioni del mascelluto palicavano l'oceano la mattina alle otto erano già un cable d'est d'italia sulla prensa dei pionieri dei venditori di vermut la flotta ha occupato corfu quell'uomo è la provvidenza d'italia la mattina dopo er controcazzo des della misma italia pive ner sacco e le magdalene dai a preparar balilli alla patria le macchine della questura stazionavano al collegio romano un italiano formidabile per dare questa sentazione di sembra tutto che vada tutto in una direzione dei grandi destini eccetera ma sappiamo quello che sarebbe successo nella storia d'italia grazie al bomba al testa di morto di stifferius al mascelluto eccetera ecco questo lo sappiamo non sappiamo lo sa gadda che scrive dopo non lo sapeva ovviamente chi viveva questo momento sto questo momento storico l'altra pagina del pasticciaccio una pagina molto celebre che viene sempre un post in presa scelta per dimostrare le capacità affabulatorie di gadda le capacità di descrizione di gadda adesso ci darà tre quattro minuti in assoluta attenzione per un particolare diciamo banale a dir poco banale allora i poliziotti sono andati a cercare di seguire la una traccia di qualcuno che poteva aver forse ucciso questa liliana baldeci ed era zamira la zamira che era una di marino che veniva a roma a far pulizie allora i poliziotti vanno alla casa di zamira a marino vengono accolti da ovviamente i villani i contadini di di marino ma in particolare da una gallina in quel punto come evocato di tenebra dall'usciolo socchiuso della scaluccia prodante in bottega di cui i ragazzini fantasticavano altri favoleggiavano più d'uno per via della lettura della mano avea pratica si affacciò e poi zampettò sul mattenato freddo qua e là con certi suoi che 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 tra due cumuli di maglie una torba e a metà spennata gallina priva di un occhio e legato alla zampa destra uno spago tutto nodi e giunte che non la smetteva più di venire fuori di venire su tale dall'oceano la sagola interinata dello scandaglio ove il verricello di poppa la richiami a bordo e tuttavia gala d'una barba là in fronzolo e di tratto in tratto una mucida una verga alga d'abisso dopo aver sperito in qua e là più d'una levata di zampa con l'aria ogni volta di saper bene ove intendeva andare ma ad esserne impedita dai divieti contrastanti del fato la zampettante guercia mutò poi parere del tutto spiccicò l'ale dal corpo e parve estrinsecarsi nelle costole per una più lauta ispirazione d'aria mentre una bizza marra tenuta le gorgogliava già nel gargarozzo una catarrosa combinatoria a strozza invelenita principiò a gorgheggiare in falsetto starnazzò spiritata in colmo alla montagna di quei cenci donde irrorò le cose e le parvenze universe del supremo cocco dè quasi avesse fatto l'ovo lassù ma ne svolacchiò giù senza portempo in mezzo atterrando sui mattoni con nuovi acuti parossistici un volo a vela di più riusciti un record sempre tirandosi dietro lo spago parallelamente allo spago e l'anfilata dei nodi e dei groppi un filo di lana grigio e le si era preso a una gamba il filo pareva questa volta smagliarsi da reo barbara ciarpa di sotto al ridipinto ciarmpame una volta a terra e dopo un ulteriore cocco cocco non si capì bene se di corruccio immedicabile o di raggiunta pace d'amistà la si piazzò a gambe ferme davanti le scarpe dell'allibito brigadiere volgendogli il poco bersaglieresco pennacchietto della coda levò il radicale del medesimo scoperchiò il boccon del prete in bellezza diaframmò al minimo a tutta apertura in vedola la rosa rosata dello sfintere e ploff le fece subito la cacca no non in dispregio è probabile anzi in onore data l'etichetta gallenacea del bravo sotto ufficiale e con la più grande sinvoltura del mondo un cioccolatinone verde intorcolato alla borromini come i grumi di solfo colloide delle acque albule e in vetta in uno scaracchietto di calce allo stato colloidale pure isso una crema chiara di latte pastorizzato pallido come già allora usava di tutta quella aerodinamica naturalmente del conseguente sgancio del giandugliotto o boero che fosse la zamiran approfittò per non rispondere avevano fatto la domanda ma se era stata lì a roma dalla dalla signora morta intanto che dei piumicini a ricciolo nervosi e teneri come d'un papero infante persistevano ad alto a mezz'aria mollemente ondulando da parere anelli in dissolvenza del fumo di sia gretta nel prodigio nuovo l'imperativo del pestalozzi vanì lei la si levò ratta di seggiola con tutto il potere celestrino la sedia a ciabattare a sventolar la gonna dietro la torba a zinale che non aveva e aggarrirla via via sozzona sporcacciona una partaccia così zozza che non sei altro al signor maresciallo tanto che la zozza in parola tuttavia gargarizzandosi mille co 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 e scaracchiandoli infine tutti in una volta al soffitto in un che 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 riassuntivo per quanto doppiamente ancorata e dallo spago e dal filo la si levò a volo fino sul ripiano della credenza dove incazzatissima e rivestita sua dignità la depositò nel vassoio di peltro un altro bel caccheronzolo ma più piccino del primo piff con che sembrò aver evacuato il disponibile la paura dei carabinieri a 90 un gioiello un miracolo di scrittura